Da zombet.fan, fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi. Laco, benvenuto, come stas? Che sei, Puma, tutto bene? Molto bene, molto bene. Tieni anche il tio, no? Il tio, il tio. È pelato? È pelato, sì. È pelato. Vamos! Benvenuto in una puntata speciale di Croquetas, Borca Valero, Matteo Palmigiano, una puntata del genere, con un ospite del genere solo a Croquetas. Perché chi c'è con noi? Eh, ragazzi, Rolando Schiavi. Buendia. Buendia, molto gusto. Ciao, Rolando. Benvenuto. Noi siamo felicissimi di averti con noi, perché con noi c'è una leggenda del calcio argentino, uno che ha vinto tutto con il Boca Juniors. Direi che ci sono... E non solo. E non solo con il Boca Juniors. È vero, perché Rolando Schiavi ha vinto due Coppa Libertadores. Sì. Una con il Boca, una con le Studiantes, di Verón, di cui parleremo. Con lui parleremo ovviamente di calcio argentino, di Boca Juniors, di tutti i giocatori con cui ha giocato, di una finale di Coppa Intercontinentale, che il suo Boca, Schiavi, e Rolando ha vinto contro il Milan. Sì, ci divertiamo tantissimo. Sì. Molto, molto. Cosa ci fa però il flaco Schiavi in Italia? Trabajando. Trabajando. Me sto dedicando a fare asesorías financieras per jugadores del fútbol, e che credo che è un motivo anche per aiutare a los jugadores a cuidare un po' il dinero, perché lo che giociamo al fútbol, sappiamo lo che significa a ganare una certa quantità di dinero durante una etapa della vita, però quando terminas di giocare al fútbol devi vivere una vita più altra. e, a volte, la maggiorità dei giocatori chiedono in manca rotta perché fanno mali inversioni, separazioni, e, bueno, stiamo trattando di aiutare a che i giocatori aprendano a ahorrar il suo dinero per il giorno di domanda. Perché, attenzione, Borca Valero è stato un grande giocatore, ma è anche un grande oggi cosa farà il traduttore? Traduttore, sì, oggi faccio il traduttore, come nelle conferenze stampe della Champions. Visto che c'è sempre uno accanto, ecco. No, sta dicendo che sta in Italia perché sta lavorando, sta aiutando ai giocatori, soprattutto nella parte finanziera, perché, ovviamente, i giocatori guadagnano tanti soldi, ma in un periodo piccolo, e poi ci sono sempre tantissimi problemi, tanti che vanno a falire dopo poco tempo e quindi è importante gestire quella parte, aiutare i giocatori a che abbiano una migliore gestione di tutta la parte economica, perché poi, ovviamente, ci sono tantissimi che hanno problemi, quindi lui si dedica a fare questo per aiutare i ragazzi giovani che soprattutto nella parte economica. No, sei un grande traduttore. Bene! Ci proviamo, ci proviamo. Ma è piaciuto? Tu, Rolando... A te ciò, intendi. Perché tu hai capito. Grande dono della sintesi, tra l'altro. Non scontato. Tu, Rolando, per noi sei veramente una leggenda, perché in Italia, ovviamente, come in Argentina, abbiamo una enorme passione per il calcio, ma noi, soprattutto tu che a Croquetas, abbiamo una grande passione per il calcio argentino. Noi ricordiamo tutta la squadra del Boca del 2003. Tutti. Ricordiamo tutti i giocatori. Il mio preferito era Rolando Schiavi. Io andavo matto per Sebastian Battaglia. e tu, Puma, perché... Cascini, Cascini. Cascini. Eh, io andavo meno matto di voi. Però a Tevez ti piaceva. No, ovviamente i giocatori, la squadra, mi piace tantissimo, sempre piaciuta, però quando ci hanno vinto l'Intercontinentale con il Real Madrid, l'ho sofferta un po', devo dire. Sì, sì, sì. Però giusto per citare un po' di nomi con cui ha giocato Rolando, ha giocato con Tevez, ha giocato con Richelme, ha giocato con Martin Palermo, ha giocato con Verón, ha giocato con Palacio, con Burdisso, altri. Questo, appunto, per dare un'idea del giocatore che è stato, che cosa ha significato per te vestire questa maglia, la maglia del Boca Juniors? Muchissimo, perché, a parte di aver giocato in Boca, sono l'incha di Boca, toda la mia famiglia è l'incha di Boca, quindi, immaginate che, nascendo con una camisetta di Boca puesta, e sempre uno, quando lo mirava desde afuera, sognava, in alcun momento, poder jugar in la bombonera, che credo che è il sogno di tutto, di tutto l'incha di Boca, e tenere la possibilità di giocare con la camisetta di Boca, la cancha di Boca, essere l'incha di Boca, credo che è stato un premio molto especial, e, bueno, ma allà di che, giocando una epoca che si gana tutto, e credo che, ese Boca, creo, del 2000 al 2005, fu il miglior Boca della storia, ovviamente che sono distinti giocatori, però, quando si le gana al Real Madrid, 2001, perdiamo contro il Bayern Múnich, la Intercontinental, che abbiamo associato il Futurista, ci metano un fanno jugador, fra alla situazione moltooba, o due ha il miglior flap, anche per al patrimonio, l'essere dei buoni terribili come Wendy, l'esperienza di avere è stata una squadra, per Boca ovviamente, ma in più quando sei anche tifoso della squadra è qualcosa di bellissimo che è nato con la maglia di Boca già addosso e poi dice che per lui il miglior Boca della storia è stato proprio quel periodo dal 2001-2006 dove hanno vinto praticamente tutto che hanno vinto a Real Madrid a Milan, hanno perso solo col Bayern Monaco e al tempo come si dice supplementari quindi era una squadra veramente importante si è perso una parola fantastico ragazzi ho indicato una potita lui si è molto largo va perfetto non c'è problema dopo ci andiamo su quella finale dopo ci torniamo ci torniamo e facciamo così adesso al posto nostro arrivano cioè noi siamo grandi appassionati ne arrivano due che sono molto più di noi ancora più di noi e poi noi parliamo magari di un po' di singoli con cui hai giocato tu appunto di Tevez di Martin Palermo di Verón ci dici da tu anche su qualche giocatore che hai allenato come l'attaccante della nazionale italiana che era Tegui perché tu sei stato allenatore della riserva della seconda squadra del Boca Juniors quindi cosa facciamo? ma sono molto felice di lanciare qualcosa di storico qualcosa di storico infatti l'abbiamo definita una crochetta de gambero marinata crochetta oh finalmente ci hanno lasciato il posto esatto finalmente finalmente siamo entrambi qui e con ospiti e con ospiti direi direi d'eccezione quindi noi abbiamo sempre portato storie curiosità anche soprattutto io dal calcio del Sud America Dave le porta spesso anche dal calcio spagnolo cose storiche quindi è una perfetta occasione per fare la nostra parte insieme oggi quindi abbiamo portato delle cose che un po' riguardano la tua carriera e un po' anche degli sviluppi del tuo post carriera e anche ovviamente il grande legame che c'è tra l'Argentina e l'Italia quindi iniziare con Dave che racconta qualche curiosità della tua carriera più che curiosità sì è un come ricordavamo prima ha vinto due Coppa Libertadores è stato vicino a essere l'unico argentino a vincere addirittura tre perché fece una finale con il contro tra l'altro il Boca con la maglia del del Gremio nel 2007 che perde purtroppo per una grandissima performance di Juan Romarichelme perdono sia in Brasile che in Argentina ne ricordiamo due e la cosa incredibile che ci ha sorpreso prima guardavamo tra l'altro le tue statistiche di fatto le Studiantes ti prende solo quasi per vincere la Libertadores perché tu di fatto giochi forse quante partite giocato le Studiantes quattro che sono le due semifinali contro Nazional e la finale dopo la finale contro Cruzeiro ma quel trasferimento li che hanno preso praticamente per vincere la Libertadores per vincere la Libertadores ti cogerono ti dice no vente qui tenemos che ganare sì 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 io stava giocando Neubels e le ultime due fechasi non le podía jugar perché me avevano sacato amarilla e e justo se había lesionado il Flacco Lalles che jugava che jugava in Defensor di Studiantes e ovviamente que Grondona e Bilardo sabían de eso que se podía hacer de que se podía incorporar un jugador con contrato en otro club para jugar esa instanza de Copa Libertadores que después después de mi caso no se pudo más porque yo tenía contrato con Neubels firmé contrato por un mes para jugar con estudiantes y volvía otra vez a Neubels entonces me llamó un viernes a la noche esto estaba la primera semifinal se jugaba el otro miércoles a los 5 10 que había una posibilidad que había una posibilidad de incorporarme para jugar semifinal y final si me interesaba la propuesta le dije que sí el sábado a la noche en Rosario estaba el presidente de estudiantes el presidente de Neubels mi representante y yo haciendo todos los papeles un sábado a la noche domingo se firma todo domingo a la tarde viajo a La Plata que son como desde Rosario son como 600 kilómetros duermo en estudiante el lunes entreno con el plantel que hicimos un poquito de fútbol martes pelota parada y el miércoles arranqué a jugar la selección de Copa Libertadores increíble es una historia increíble prácticamente giocava a New Soul Boys y había contrato con New Soul Boys y c'era una regola que poteva anche avendo contrato con una squadra poder andare a un otro para jugar la fase final de la Libertadores con la pala ferma e il giorno dopo subito in campo per giocare quella semifinale del Libertadores quindi un caso veramente incredibile e bello allo stesso tempo l'unico vantaggio è stato che appunto un flaco para otro flaco quindi c'era già il soprannome Tenia Sella Podo un'altra bellissima curiosità è che lui nel 2009 è il debuttante più anziano più vecchio della selezione argentina con 39 anni e nel 2011 addirittura signore Diego Armando Maradona come allenatore Diego Armando Maradona perdono 36 nel 2009 36 mentre nel ora ti detto io e nel 2011 invece finisce nell'equipo ideal di America con Ganso Neymar ed Edu Vargas che è il pupillo del nostro Simone Gamberini che poi vince anche con la sudamericana sulla nazionale cosa cosa ci racconti che quanto non sei arrivare alla selezione così tardi fu creo che fu una locura perché e io se lo dice poi se lo recalquero a miei compagni ero io avevo 36 anni ero ero un camionetto molto buono in Ugo e un dia andavo andando in camionetta e mi chiamano Maradona per telefono io ho 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 mi mi dice flaco che haces Diego voldo qui cia cia diego come andas no te chiamo perché te sto visitando para la selezione dalle me stas haciendo una joda no boludo te sto calling dici dici che città para la selezione imaginate nunca había tenido posibilità de vestir la camiseta della selezione argentina 36 anni così che la settimana mi ha avuto giocare un par di partite amistoso con Traiti che andava bene quindi dopo per giocare 4 partite per clasificare al Mondial che in esa epoca stavamo quasi fuori e, bene, debute meno male che non giude il primo partito contra Brasil perché perdiamo 3 a 0 entré nel secondo tempo in Paraguay perdiamo 1 a 0 e, bene, già dopo giude gli altri due partiti che clasificavamo che le ganavamo a Uruguay e le ganavamo a Pere nel ultimo minuto che clasificavamo con quella bellissima risultanza di Maradona che si buca gol di Palermo esatto, gol di Palermo e sì, e a proposito di... aspetta, aspetta che traduciamo gli italiani no, bellissimo dice che stava facendo una stagione veramente bella, buona a New Wales e lo chiama mentre guidava un numero e lo chiama Maradona e le dice ciao ma chi è? sono Diego boludo questo non lo traduco perché è bellissimo solo sentirlo e dire... che specifichiamo è argentino come testo in Spagna in Spagna non lo usiamo però è veramente bello e pensava che stava scherzando con lui che lo prendesse in giro perché diceva dai che ti chiamo in nazionale e lui ha detto va 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 non ci credo invece era vero lo ha chiamato in nazionale e mancavano poche partite per la qualificazione al mondiale di cui stavano praticamente fuori dice meno male che non ha giocato la prima partita con Brasile perché abbiamo perso 3 a 0 poi sono entrato alla fine del primo tempo nella seconda con il Paraguay e abbiamo perso poi abbiamo vinto le ultime due con Uruguay e Perù ma facendo gol praticamente all'ultimo e la famosa esultanza che hai detto di Diego sì tra l'altro poi il gol decisivo nell'ultima partita lo fa un ex Fiorentina Borca Bolatti tu non ci hai giocato però segna lui nell'ultima partita invece però si Palermo che è un tuo grande amico è stato c'entra un po' con il finale il post carriera del Flaco Schiavi perché tu segni il gol nell'ultima partita con il Boca contro il Godoy Cruz che è la squadra di Mendoza città per eccellenza dell'argentino del vino che adesso è una tua grande è una tua grande passione se ci puoi raccontare un po' anche visto che ci hai detto quanto è importante vestire una maglia come quella del Boca soprattutto se sei un incia se sei un tifoso lasciare il calcio il tuo obiettivo era finire la carriera con la maglia del Boca che emozione è stata poi con l'ultima partita contro il Godoy Cruz si, entendi si, la verdad que si porque tener un no hice partita despedida porque no se dieron los tiempos y no pude pero haberme despedido en la cancha de Boca como quería por la puerta grande con mi familia dentro de la cancha con mis compañeros viéndome el último partido la gente fue increíble la verdad que fue una emoción muy grande que no todos tienen la posibilidad de vivirla porque grandes jugadores de Boca no tuvieron la oportunidad de despedirse en el último partido como me tocó a mi y nada pensar todo lo que pensar para atrás todo lo que lo que viví con la camiseta de Boca se me vinieron muchas imágenes desde los comienzos que tuve desde chiquito a todo lo que pasé para llegar a jugar al fútbol profesional todo lo que viví como como jugador más allá de Boca con otras camisetas y bueno pensé que va a ser el último partido y después al segundo día me llama un equipo de China y me fui a jugar a China así que encima justo agarra a Carlos Bianchi ahí en esa en el 2013 y me llama por teléfono para ver si yo quería volver a jugar pero yo dije que no ya había dado todo por boca me había hecho la despedida y no quedaba bien volver así que me fui a China a retirar el último año de mi carrera que creo que también podría haber seguido jugando porque el cuerpo me aguantaba pero bueno reconocimiento como el que tuve en la bombonera en el último partido no se olvida más emozione emozione increíble viverlo en ese modo con la familia en campo con todos sus compagni obviamente per lui fue un buen momento porque ha recordado todo lo que ha vissuto en el pasado todo lo que ha faticado para llegar a jugar al calcio profesionalista lo que ha vissuto como jugador profesionalista y vivirlo en ese modo con la bombonera es algo especial obviamente ha chiuso la carrera en China pero antes de ir a China le han reclamado porque iniziava a allenar Bianchi a boca pero le dijo que había hecho un finito que no era bueno de irme y en ese modo y ha ido en China pero que todavía podía jugar un poco de más porque el físico lo teneba bastante bien si y por concluder faccio una mini croqueta de gambero su abbiamo detto Mendoza cittad del vino attuale passión forte del flaco schiavi cittad del vino porque un certo Antonio Tomba que ahora ha el su nombre del club si se llama Godoy Cruz Antonio Tomba la squadra de Mendoza era un italiano era un vicentino scappado dall'Italia por motivos politicos porque era un repubblicano e en Italia c'era ancora la monarquia va in Argentina passa prima da Buenos Aires ma poi va a Mendoza dove cambia la maniera di fare i vini e da lì Mendoza diventa la città argentina per eccellenza dei vini quindi da un italiano come Antonio Tomba che ha lasciato il suo nome nella storia del club che si chiama Godoy Cruz Antonio Tomba oggi diciamo che i vini sono in mano al flaco schiavi non so 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 Antonio Tomba il vino mi gusta è ma tengo un vino proprio che 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 in Mendoza in Mendoza l'ultimo l'hombre si chiama l'ultimo a mi ovviamente che il fútbol e il vino è quasi lo mismo perché voi ti sentas a mirare un partito e ti tomas una copa di vino un asado che noi ciò che ciò che ciò che con la famiglia con gli amici e sempre disfrutando di un buon vino e ciò che lo lleviamo credo di aca di Italia perché io sono hijo di italiano e toda la vita mi abuelo mi papà hasta il giorno di oggi lo tengo vivo por suerte sigue tomando su vaso di vino todos los días e è una pasione che credo che lo lo lleviamo a voi gli italiani no che 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 il suo proprio vino è bello perché si chiama l'ultimo uomo che ha visto sua posizione nel campo è veramente un bel nome che loro ovviamente compartono tantissimo insieme alla famiglia con l'asato bevere il vino è una cosa normale che sicuramente è una cosa che hanno portato degli italiani lui è figlio degli italiani con suo nonno con i suoi genitori ancora bevono un po' di vino guardando calcio è una cosa normale sicuramente è un modo di fare che hanno portato gli italiani in Argentina molto bene direi che noi oggi eravamo un po' la riserva lasciamo il posto ai titolari la riserva che l'ho allenato alla bocca l'equipo è riserva quindi noi siamo felici di essere stati in riserva noi e lasciamo ovviamente lo scettro ancora a Puma e a Marco Bel momento è dura rientrare adesso il gambero Dave Marino c'è l'unione non so come due grandissimi cantanti che si sono ritrovati la prima volta sul palco come quegli eventi non lasciate troppo il posto perché quando si parla di Argentina c'è poco da fare i numeri uno parliamo un po' Flacco dei giocatori con cui tu hai giocato citavano prima loro Martín Palermo che cos'è per te Martín Palermo visto che avete condiviso non solo le grandi vittorie sul campo ma anche un'avventura all'Arsenal del Sarandino lui come allenatore e tu come suo vice sì nada stare con Martín come dici con il tema di già verlo jugare lo che generava dentro della cancia io mi tocò vivere lo enfrente e la verdad che immaginate che per mia altura sempre mandaban a marcarlo a lui e se me hacía imposibile se me hacía imposibile perché sempre te hacía un gol non sei di onde però te hacía un gol voi lo vedete con la pelota con la pelota en los pies e voi lo viste jugar a Martini voi lo vedete con la pelota en los pies e no hace nada e sin embargo primero saltaba a cabecear que creo que debe haber sido uno de los mejores cabeceadores del fútbol argentino e e después tenia el arco en la cabeza el se daba vuelta con la pelota e sin mirar ya sabía donde tenia que patear tenia esa ese don ese olfato de goleador que por ahí muchas veces no lo ves no lo ves muy técnico pero te sorprende todos los días de las cosas que los gole que hacía y bueno después tenerlo de técnico fue una corta experiencia que fueron seis meses ahí en arsenal pero la pasamos espectacular y aparte yo después me fui a dirigir la reserva de boca él siguió su camino que hasta el día de hoy sigue dirigiendo ahí en la primera de gole creo que en cualquier momento va a ser uno técnico de vocación el titano no es realmente increíble giocare insieme a lui pero obviamente es más difícil lo ha patido como difensor porque dice que lo vedevi con la palla al pie y dice no puede hacer nada pero riuscí a hacer gol en todos los modos y sobre todo de testa dice que era una cosa increíble un estaco un terzo tempo increíble riuscíva a fare gol siempre poi cosa es la cosa más increíble di riquelme giocatore in campo la cancha la cancha la cancha detto dalla milanese nel mio caso no yo creo yo creo que en la cancha debe haber sido uno de los mejores jugadores que vi me tocó agarrar la última parte de maradona cuando jugaba cuando se retiró que fue justo un argentino boca que yo estaba justo en el 97 jugando en contra de boca pero bueno ya el diego no era el diego del principio pero después bueno cuando uno juega con con Román las cosas que hacía dentro de la cancha las cosas que veía que no no la veía otro jugador yo creo que fue uno de los mejores jugadores argentinos con los que me tocó jugar él y Carlitos Tevez creo que también Carlitos cuando cuando apareció fue una sorpresa muy muy grande tenía 17 años 18 años nosotros ya cuando Carlos Bianchi lo subía a entrenar con nosotros las primeras prácticas le metíamos con todo para que sintiera pero lo hacíamos con todo porque bien para que el jugador se adapte un poco allá en Argentina nosotros por ahí acá no sé si en Europa está tan acostumbrado eso pero nosotros en Argentina los que éramos más grandes marcaban un poco el terreno a los más chicos para que para que viera lo que era el rigor de jugar en primera división y claro ya en la primera segunda tercera cuarta práctica lo íbamos a a pegar a Carlitos ya no se achicaba nunca se achicó y llegó un momento que ya bueno cuando lo vio Bianchi que era un grandísimo jugador lo subió a primera división y bueno lo tuvimos lo empezamos a cuidar porque sabíamos que no hacía ganar partidos así que ahí ya lo cuidamos para que no le pegaran patadas claro grande no obviamente Román uno de los mejores jugadores con quien ha jugado ha fatto cosas increíbles en campo ha jugado también en la última partida en la última partida de Maradona cuando contra obviamente Maradona era lo mismo del primer Maradona que hemos visto también a Napoli pero un jugador increíble y luego Tevez que lo ha vissuto cuando era muy joven en Argentina pero también aquí ahora un poco menos pero antes en Europa se lo hiciera en lo mismo y cuando llegaba el joven como ya ha dicho antes un otro compañero se llegaba allí se facevano sentire i più veterani li facevano capire subito dove stava arrivando e cosa si troverebbe dopo nel campionato ovviamente pero dice che dopo uno, due, tre allenamenti subito hanno visto che lui rispondeva teneva botta forte e hanno capito che sarebbe stato un giocatore molto importante e da lì l'hanno iniziato a proteggere perché sapevano che poi ovviamente faceva la differenza l'apparizione tra l'altro curiosità ma lo sappiamo praticamente tutti cioè Borca tu hai condiviso la stessa maglia di Juan Romano Richelme Martín Palermo e Borca Manero e Villareal non insieme ma la stessa società cosa si diceva di Palermo e Richelme beh ovviamente Palermo è stato meno però quello era un bomber poi mi ricordo che ha avuto un bruttissimo infortunio a Villareal dopo fare un gol è andato a sultare è cascato un muro sopra si è fatto un brutto infortunio però di Richelme tutti parlano incredibilmente dice che calcisticamente era di un altro livello era geniale che ricordi hai Flaco della finale del 2003 contro il Milan da dove vuoi partire se vuoi raccontare quella partita già quando salimos al campo noi teníamos una tutti gli giocatori jugavamo con tapone alto di alunio quindi quando già stavamo nel tunnel raspavamo i grittàbamos grittàbamos claro nos enfrentavamo a un Milan che era campeone di tutto creo che per mi fuori uno dei Milan più grandi della storia per la quantità di giocatori che tenia e empezamos de esa manera e e e e e e e quando empezò il partito se fue dando bastante parejo nos hacen un gol e al toque nosotros empatamos e e poi tocò la larga e fomos penales e depois los penales suerte me tocò patear il primo penal quando iba caminando agarrar la pelota lo veia Dida e Dida era con las manos parecía los dos palos lo alto que era lo grande que era claro la cabeza en ese momento se te cruza tantas cosas de decir donde le pego le pego fuerte le pego fuerte le pego fuerte y que salga prefiero pegarle fuerte la pelota y no tratar de colocarla porque bueno Dida sabía que podía llegar a yo ya pateaba penales en la Copa Libertadores y por ahí me podría haber visto mis penales como la pateaba de qué manera entonces digo bueno cierro los ojos y le pego por suerte entró después pudimos ganar la Copa se patearon muy mal los penales y llegar a la Argentina creo que fue una locura desde el aeropuerto de Argentina de 6 hasta el centro hay 25 kilómetros nosotros hemos estado 40 horas viajando tuvimos 7 horas para llegar era gente de los dos lados en la autopista que no se podía ni mover el colectivo como el último mondial como la Copa del Mundo si fue muy parecido no tanta gente pero fue muy parecido pasa que nosotros la gente ya hizo golpónas en la Argentina en el obelisco nosotros fuimos directamente a la cancha toda la gente fue a la cancha se llenó y bueno de ahí pero fue creo que la gente lo que más recuerda ganaron intercontinentales más contra el Milan fue increíble historia mucha bello bello soprattutto al inicio dice que cuando eran ya sul tunnel avevano capito la grandísima squadra que había el Milan y ellos habían puesto ya los ferros bellos altos y los tacchetti inizianos a esticiar contra la tierra para hacerles sentir lo que andrebbero en contra y dice que inizió la partida obviamente el Milan les hace gol subito han la fortuna de parellarla y luego van a supplementar el rigor el rigor obviamente es un poco una lottería y ha dovuto calciar el primer rigor por boca y llegar ahí a ver Dida así grande que se se allunga las manos y llega de palla a palla no es semplice y dice que obviamente había ya calciado el rigor en libertadores y que Dida había visto que el rigor ha deciso de chiudere un po gli occhi tirare forte para cambiar un po y ha fatto el gol por fortuna y ha vinto la coppa e poi ovviamente arrivare a sono stati non so quante ore di viaggio più da quando sono arrivati all'aeroporto de Buenos Aires arrivare allo stadio di Boca ne ho messo sette ore sono 25 chilometri è vero palmi dice come per il mondiale praticamente si dice diverso perché nel mondiale sono andati anche all'obelisco eccetera però dice che è incredibile una una cosa incredibile con gol di Donnet che era passato il pareggio il gol della partita se non ricordo mai Donnet che era passato al Venezia giocava al Venezia in Italia si 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 Donnet ah Matias Donet si però stava pensando il di Milano non mi ricordo chi lo hizo Tomasson Tomasson e il rigore lo sbaglia Costacurta Costacurta anche Tomasson ha giocato a Pilar è vero c'è un messaggio per te da parte di un tuo ex compagno proprio di reparto in quella partita Nicolas Burdisso Buonasera a tutti sono Nicolas Burdisso volevo approfittare questo spazio anche questo postcard e lasciare un saluto e un grandissimo abbraccio al mio ex compagno di coppia centrale di squadra di tante avventure insieme Rolando Schiavi per me è sempre un bel momento ricordare quanto abbiamo vissuto insieme sia dentro il campo che fuori perché anche l'anno che mi ha toccato lavorare come direttore sportivo al Boca abbiamo condiviso abbiamo potuto vivere insieme tante esperienze belle gli faccio un bocca al lupo per quello che si presenta nel futuro ma soprattutto ricordare il passato è una grande persona un grande uomo dentro il campo un uomo di famiglia un grande abbraccio un saluto grande Rolando te dejo un saluto di corazon per voi e per tutta tutta la tua famiglia un saluto grande un saluto grande un saluto grande un grande Nico un grande la verità tengo una una relazione molto buona nos tocò jugar juntos in esos partidos e con tan joven io credo che fu uno di uno dei migliori marcatori centrali che tuve Eli e Samuel in Boca jugar con lui perché tenia 18 anni quando jugava Copa Libertadores e Intercontinental parecia un veterano non tenia tenia una personalità grandissima che non si achicava nunca iba al frente sempre bueno después lo demostro en toda la carrera che hizo in Italia in tutti e poi me tocò estar con lui hace 4 anni lui stava in Boca io in la reserva volvimos a compartire moltissimas cose tengo un respeto enorme por Nico sei che è una persona molto seria lavorando sta super preparato per fare lo che sta facendo e sempre è un placer escucharlo che hable bene di io sempre come come todo buen hombre è ovviamente che per me è un onore che hable di questa maniera di mi bravo un grandissimo giocatore uno dei migliori centrali di Boca sicuramente anche con Samuel dice che giocava con 18 anni in quelle partite importantissime contro Shevchenko ed intercontinentale che sembrava un veterano questo dice molto di quello che era come giocatore poi ovviamente hanno lavorato abbiamo visto anche la sua carriera che ha fatto in Europa grandissima carriera e poi hanno condiviso anche l'esperienza a Boca lui come dirigente lui era nella B e hanno vissuto dei momenti belli insieme anche lì è sempre bello quando le fanno i complimenti e sempre parlerà bene De Nico perché lo vuole bene ci dici qual è l'immagine di due argentini dall'argentina che in Italia hanno fatto stanno facendo faranno grandi cose cioè Lautaro e Dybala noi ovviamente abbiamo l'immagine che abbiamo qui dall'argentina cosa si vede di loro della loro grande stagione no bueno Lautaro non me sorprende nada già demostrava toda la qualità che tenia quando jugava in Racing un goleador che le pega con le due pierna che va al frente che non le tiene miedo a nada e De Paolo sta a la vista creo che hizo una carrera enorme in Italia lo ama in todos los lugares dove estuvo è un jugador che si non hubiese tenido tantas lezioni hubiese sido un crack hubiese sido muchísimo ma perché nunca tuvo una continuità di jugar un campeonato entero sin lesionarsi e eso creo lo perjudico un poco all'ultimo però al principio hizo una carrera barbara e lo va a seguir haciendo carrera carrera barbara bellissimo ovviamente non è sorpreso per niente di Lautaro perché già aveva dimostrato anche a Rathin la sua qualità un attaccante che tira con entrambi i piedi e sta facendo delle grandi cose e poi Di Valla ovviamente è giocatore pazzesco e lo ha dimostrato in Europa lo vogliono bene ovunque in tutte le squadre dove è stato peccato per questi infortuni che non abbiano lasciato avere più continuità perché secondo lui sarebbe ancora più forte di quello che noi riteniamo qua perché avendo stagioni complete senza infortuni sarebbe ovviamente ancora di più Volevo farti una domanda che penso ti abbiano già fatto in tanti ma mi interessava D'argentino quanto sei contento per Messi finalmente che è riuscito a vincere questo mondiale tutti lamentablemente avevamo gli argentini a volte abbiamo poca memoria conviviamo con l'éxito e con il fracaso quindi quando avevete un èxito in Barcellona ganava tutto e l'argentino e teoricamente fracassava perché la finale della Coppa del Mundo non è facile è difficilissimo e io credo che le exigiano di più e lui lo sentia io credo che senti molto tutto lo che le pegò io non credo la gente anche se deixò llevar anche per una parte del periodismo che lo criticava molto quindi si agarrava un poco di eso perché immaginate per andare a Argentina e che il proprio pubblico te silbe non è facile tenere il premio di aver salito campeone io credo che l'è si sacò un peso molto grande di encima perché io credo che deve essere per lui perché uno che è normale che lo ve con altri non potete creer che lo che ha fatto come giocatore di fútbol lo dice il mondo non lo dico lo dice il mondo il periodista del mondo la gente del mondo solamente in Argentina dove è lo criticamos lo criticano lo criticano io credo che si sacò un peso di encima con questo mondial perché stavo tan cerca in altro tempo io credo a tutto il gruppo la Copa America lo liberò lo liberò de una manera de sacaron esa presione de ganare con la selezione argentina e io credo che con esa mentalità ma allà che per ahi hubo altri equipi che erano mejores che questo però io credo che questo ha una unione e come ti dico il di la Copa America li liberò di una maniera che poi lo dimostraron in la cancha in il mondiale si lo dice larguissimo no ovviamente lui aveva questo peso che era una cosa incredibile che tutto quello che aveva vinto a Barcellona e tutte quelle critiche che aveva nel suo proprio paese cioè questo è una cosa incredibile ovviamente la gente si lasciava un po' andare da quella parte un po' più radicale dei giornalisti che lo criticavano tanto e lui ci soffriva tanto di questa cosa perché poi ovviamente voleva overperformare e diventava difficile dice che poi questo gruppo si è liberato tantissimo con la vittoria nella Copa America che è stata la chiave per dopo andare al mondiale e giocare in modo diverso che sicuramente altre rosse d'Argentina in passato sono state molto più forti di quella attuale però che quella liberazione di aver vinto giocare spensierati li ha fatto arrivare a vincere il campionato del mondo che ovviamente lui si è tolto un peso di dosso incredibile ti facciamo l'ultima domanda tu lo hai allenato con la riserva del Boca Juniors Matteo Reteghi vedere Reteghi con la maglia della nazionale italiana che considerazioni ti fa fare che ne pensi? Mi parece bárbaro nosotros Matteo jugava di volante antes di arrivare alla riserva e un tecnico Sergio Saturno che lo puso di 9 e bueno quando subiamo alla riserva lo agarramos di 9 ovviamente che al principio le costò molto perché encontrarli movimenti di espalda non è lo stesso che encontrarli movimenti di fronte quando sta siendo volante però se fu adaptando di una maniera che è una persona molto intelligente aprendo moltissimo con tutti gli tecnico che avevo io credo che aver seguito anche a prestamo a studiante e a Tigre lo ayudò lo ayudò moltissimo perché le dio esa libertà che in Boca non lo avessi tenuto perché in Boca passa oggi se non fa un gol cada due partidos non servì è un delantero immaginate che per un chico che jugò non è facile e io credo che oggi encontrò esa libertà e esas ganas di encontrò un tecnico che lo ayudò molto in Tigre come Martínez e il goleatore se abriò io credo che ha una capacità enorme di poter seguir creciendo perché è un jugador che non si cansa nunca non da nunca una pelota per perdita voi lo ved corriendo come presiona adelante a tutti gli defensori e ha una capacità fisica impresionante e aprendi a definir che credo che lo faci molto bene tanto di direzza come di direzza vi gli gols che ha fatto la selezione quando vino che ha fatto due gols in due partito che credo che per un chico che viene da altro fútbol encajar in un gruppo che già stava armato non è facile e che lo abbia cumplito da esa maniera io credo è una gran apparizione e credo che le va a dare molta alegria alla selezione italiana prima della traduzione una domandina sempre su Retechi secondo te è un giocatore già adesso da grande squadra europea io credo che sì è un giocatore che tiene moltissimo per seguir crescendo perché è 99 non so se ha già cumplito 23 o no già lleva il secondo campionato consecutivo sendo goleador nella Liga Argentina che non è facile non è facile juega un equipo chico de los denominados chico me van a matar si digo tigre bueno pero no es de los grandes y está haciendo muchísimos goles entonces no es fácil el fútbol argentino te lo pueden decir cualquier jugador que va hoy que retoma a jugar a Argentina no es fácil es muy físico se corre mucho se piensa poco te da pocos tiempos y él lo ha aprovechado muchísimo ha hecho muchísimos goles no ha fatto ha fatto ha fatto benissimo dice che c'è stato un allenatore prima di arrivare alla seconda squadra che lui giocava in un'altra posizione lo ha riconvertito da centrocampista volante a giocare da attaccante che all'inizio ha faticato un po' perché i movimenti sono diversi trovarsi la schiena coprire la palla eccetera eccetera prima che alla fine ha imparato molto riesce a fare gol di destra e sinistra e fare ovviamente il capo cagnone in Argentina due anni di fila un campionato che è molto complicato che ha poco tempo da pensare molto fisico non è per niente per niente semplice che sicuramente darà tantissime allegrie alla nazionale italiana perché ha le caratteristiche per crescere e che sicuramente ha la capacità di giocare in una squadra grande subito applausi a Borca ragazzi è stato fantastico no perché poi l'argentino ha questo modo di parlare molto poetico e lungo e quindi retenere tutto non è semplice sei stato bravissimo ma è una curiosità sulla bombonera so che tu volevi andare un giorno io vorrei andare a vedere una partita dal vivo mi ha consigliato di farlo in una dei libertatori che dice che l'ambiente è ancora più caldo intenso come al Bernabé una partita di Champions si si cambia cambia sono stato alla bombonera ma quando era vuota l'effetto non credo sia lo stesso non era la stessa cosa Flaco grazie mille è stato un piacere nemmeno grazie in spagnolo grazie ma muchas gracias Flaco tra l'altro ci tenete a dire che ci sono tanti Flaco no? certo chi è che c'è qui? quanti Flaco ci sono? Flaco Flaco Pastore Godin Flaco Godin Colpani Flaco Colpani è un giocatore del Monza Flaco Colpani poi altri Flaco? eh altri? ce lo facciamo dire dai ragazzi nei commenti? si scrivetelo nei commenti tutti Flaco del calcio ma noi abbiamo avuto qui con grande piacere Rolando Schiavi il Flaco il Flaco Rolando Schiavi leggenda del Boca Juniors e del calcio argentino grazie Flaco muchas gracias por la invitación eh grazie Palmi grazie Borja grazie Marco finisce qui questa puntata speciale seguiteci ovviamente ancora settimana prossima ciao ciao rocchetta rocchetta grazie a tutti